Ciao ragazze, oggi video haul, giorni fa ho ricevuto un pacco dalla mia amica mare vi volevo mostrare cosa mi ha mandato, è davvero una pazza, mi ha mandato davvero delle cose bellissime ma prima di iniziare vi volevo mostrare dei prodotti che ho ricevuto dal sito Rosewall Sale devo dire che non mi ci sono trovata bene con questo sito l'unica nota positiva che ha sono le spedizioni perché in una settimana, 8 giorni ho ricevuto il tutto in questa busta qua queste buste con il pluriball all'interno, i prodotti non erano imballati infatti la collana mi è arrivata tutta rotta, ha perso tutte le pietrine che aveva e con la santa pazienza mi sono dovuta, ora ve la faccio vedere tanto la butterò perché si è rotta dopo una volta messa allora questa è la collana come potete vedere la qualità non è eccelsa nel senso che si vede insomma che vale poco, vale quello che costa cioè a differenza di Semidress che comunque pagate poco i prodotti che tratte insomma il sito la qualità degli accessori si vede ad esempio questo anello qui è di Semidress ma fa una bellissima figura ora ve li metto a paragone con gli anelli che mi hanno mandato a sto sito per farvi capire insomma il succo allora questa collana praticamente vedete allora mi è arrivata rotta con 3-4 pietrine rotte che ho dovuto riattaccare con la vinavil poi mi è arrivata con questo coso sganciato perché vedete porta dei gancetti e li ho dovuto riattaccare con una pinza e qua ho detto vabbè fa niente cioè può capitare non è imballata non ci sono problemi la vado a mettere e cosa succede? la prima sera messa senza fare assolutamente niente la tenevo da sotto al collettino della camicia di jeans non l'ho toccata proprio mi si è spaccato da solo il gancetto cioè vedete? non è rimasto niente di niente e sinceramente non mi è piaciuta come cosa l'ho messa una sola volta questa collana e mi ha fatto questo effetto qua a parte già che la qualità non mi piaceva perché sì per quanto possono essere carine le decorazioni si vede che non fa una bella figura sta collana si vede che vale poco e già sta cosa non mi è piaciuta poi mi si è rotta la prima sera messa ho detto vabbè è stra 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 bocciata e quindi questa qua la butterò insieme alla busta perché francamente non me ne faccio nulla né tantomeno ci voglio spendere soldi vicino per riaggiustarla cioè non ne vale proprio la pena e quindi la metto nella busta poi ho scelto questo pennello che devo dire la verità mi è piaciuto è piccolino vedete quanto la mia mano è in setole sintetiche è bello fitto lo sto utilizzando per il blush mi sta piacendo è un prodotto diciamo che si salva e l'ho pagato pochi dollari poi al limite vi metto giù nell'info box i link di ogni singolo prodotto però ovviamente non comprate mai la collana e gli anelli perché rimanete male ve lo dico e quindi questo è l'unico prodotto che si salva l'unico superstite ed è questo pennellino qua poi sempre dal sito rosewall sale ho scelto quest'anello che sul sito se voi lo andate a vedere praticamente a parte il fatto che vi fate tipo le dita munche cioè un attimo solo che mi tolgo questo questo è l'anello però se andate a vedere comunque come è fatto le varie rifiniture cioè si vede che è un anello di poco conto e c'è da dire che sul sito prima costava un 5-6 dollari quindi non costava poco e secondo me questo sito modifica con photoshop anche le foto dei prodotti perché questi prodotti se li andate a guardare sul sito fanno paura per quanto sono belli poi vi arrivano e fanno cacare e diciamo questo è l'anello si non è male ma non è non è sta grandissima cosa per dirvi vi faccio vedere questo qui di semi dress che poi vi mostrerò meglio vedete quanto è carino cioè è proprio rifinito meglio è tutt'altro discorso proprio lo stesso vale per questi anelli che vanno a tutte le dita questo ne è uno e vi faccio vedere diciamo quello che intendo per rifiniture cioè vi è arrivato questo coso ferraia nel vero senso della parola danno anche fastidio sulle dita perché non sono ben levigati e danno fastidio vedete portano tipo questi bozzetti non mi piacciono non mi sono piaciuti questi qua sono aperti in questo modo si è proprio la tipologia d'anello però diciamo non ho l'effetto è carino ma non sono di sta grande qualità insomma ma questi qua vabbè li voglio pure giustificare perché sono tanti e tanti anelli e costano poco però gli altri prodotti che ho scelto non esiste proprio la collana se non erro l'ho pagata quasi un 8-9 dollari non mi ricordo comunque era il pezzo che costava di più e mi è arrivata che è uno schifo assurdo quindi non esiste proprio non vi consiglio assolutamente questo sito per correttezza nei confronti dell'azienda perché sono sempre corretta lascerò su nell'info box il link del sito con i loro prodotti ma non vi consiglio assolutamente niente il pennello si il pennello mi è piaciuto ma gli accessori vi consiglio di scegliere bene sul sito perché non tutto appare per quello che è vi ripeto secondo me le foto le modificano con photoshop perché non esiste cioè vi arriva tutt'altro prodotto va bene passiamo oltre e vi faccio vedere cosa mi ha mandato la mia amica Mara allora inizio con il prodotto i prodotti stratosferici cioè davvero io non ho non ho parole ecco qua mi hanno preso i pennelli di essence della collezione blooming questo qui è quello da ombretto che io ovviamente ho già utilizzato perché non ho resistito quello il pennellone da cipria bellissimo e questo qui rosso che si può utilizzare per il fondo per il blush insomma un pennello che si può utilizzare un pochettino per tutto sono davvero fantastici troppo troppo belli poi sempre della blooming mi ha preso altri due prodotti ed è il matitone questo qui è il blooming mi appo lei brown è un lifter e la è diciamo un illuminante da da rima questo è penso sia quello per la rima che è un rosa molto molto bello un rosa pesca tipo ancora lo devo provare vi dico la verità non vi so dire nulla e questo è l'illuminante che più o meno sarebbe per soprazzia che più o meno è una tipologia di prodotto di quello che ho preso della sormè in siera però quello sormè è panna questo qui è rosino è pure molto molto bello vi ripeto lo devo ancora provare oggi ad esempio indosso lui l'illuminante blu mi appo stupendo davvero stupendo è quello che mi vedete spettacolare non ho altro che dire mi dispiace semplicemente perché si rovinerà la trama del prodotto e da una trama stupenda non so se avete notato c'è con tutti i fiorellini meravigliosi però pazienza insomma mi sono anche bagnata la maglia va bene poi sempre per quanto riguarda i pennelli mi ha preso questo qui di Ubu molto molto carino il numero 30 da ombretto è abbastanza piccolino come potete vedere cioè proprio piccolino ancora lo devo provare questo qua poi ho un altro illuminante stupendo di una collezione limitata di essence è questo qui di metal glam che non so Mara dove è andata a pescare ma me l'ha mandato e ha detto che non potevo non provare questo illuminante qua ed effettivamente è stupendo già l'ho provato vi faccio lo swatch anche di questo qui ed è più doratino rispetto a quello lì che va più sul rosino vedete comunque sono molto molto scriventi tutti e due poi vi faccio vedere i prodotti labbra che mi ha preso due tre quattro allora mi ha preso il rossetto che indosso che è di Shaka ed è il numero 56 purple rock ed è questo bellissimo viola molto molto bello è sheer come effetto però raga è stupendo bellissimo proprio poi mi ha preso un altro rossetto di essence questo qui è quello lì nuovo il 13 love me che è un bellissimo rosa un rosa antico tipo eccolo qui super resistente già l'ho provato dura tantissimo devo dire la verità non vi so dire molto sui prodotti perché vi ripeto me li ha mandati da poco e due gloss di Shaka questo qui che è molto molto bello come l'altro cioè sono davvero stupendi il full color gloss questo qui è il numero non vi so dire che il numero è non sta scritto mentre quest'altro qua il 3 Haiti forse il 3 Haiti e il 5 Dai Kiri praticamente uno è un rosso ora ve li faccio vedere uno è un rosso ciliegia con micro glitter fucsia vedete la coprenza che hanno questi gloss stupendi davvero stupendi e questo qui praticamente è un grigio con dei riflessi viola stupendo questo qua ce ne vuole un pochettino per riempire insomma il colore però è meraviglievole meraviglievole e tiene praticamente un grigio con dei riflessi fucsia viola all'interno molto molto particolare e poi mi ha mandato un eyeliner glitteroso di Winnie questa marca spagnola ed è particolarissimo non so se rende è di base verde con tutti i miracle glitter colorati di multicolor vi faccio vedere subito vi faccio una bella riga piena porta davvero i micro glitter di tutti i colori dal arancione rosso blu oro verde a seconda insomma di come lo guardate è davvero molto molto bello in particolare non ce l'avevo così molto molto carino per quanto riguarda gli occhi mi ha mandato un matitone e due matite allora il matitone è stupenderrimo già l'ho provato ed è fighissimo sia come base che come illuminante ed è della linea nuova di essence il big bright eyes l'highlighting it funky una roba del genere questo qui è il funky ed è un color carne con dei micro glitter oro non ve lo so descrivere cioè non si vedono tiene praticamente dei micro glitter rosa molto molto illuminante come prodotto dalla webcam non rende ma è stupendo davvero stupendo e l'ho utilizzato sia come base su tutta la palpebra che come illuminante vicino al condotto lacrimale è davvero bellissimo poi ho provato di mi ha mandato di essence questa matitina qua la 25 field maritime che è un bellissimo verde quella qua verde smeraldo tipo secondo me sta divinamente con i glitter a base verde cioè esce davvero qualcosa di molto molto carino e poi mi ha preso le nuove matite di essence a gel e fanno paura queste matite infatti ho paura di svozzarmele perché poi mi rimane il segno ed è la classica matita nera ragazze hanno una dorata spaziale cioè davvero sono waterproof non colano hanno un ottimo tratto sono davvero super non ve la svozzo perché vi ripeto mi rimane il segno sopra la mano con tutto la che pulisco e quindi nulla non ve la svozzo per questo motivo qua e poi questa palettina nuova di essence l'all about paradise questa qui tutta colorata molto molto bella i colori sono scriventissimi e il mio preferito è questo pesca molto particolare questo vedete aranzo sono molto setosi al tatto faccio vedete lo sbozzo il giallo questo è super super scrivente questo color burro fucsia vedete molto molto scriventi rispetto alle altre palettine di essence il blu e mi rimane l'unico e solo il verde che si abbina perfettamente anche alla qui sembra più un azzurrino ma in realtà è un verde che si abbina perfettamente alla matitina davvero molto molto carina questa palettina qua piccolina devo ancora utilizzarla perché vi ripeto ho ricevuto tutto qualche giorno fa davvero tutto meraviglioso io ringrazio Mara le mando un bacione grande davvero troppo 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 buona e niente ragazze questo è quanto vi ho fatto vedere un pochettino Mara cosa mi ha mandato vi ho parlato un pochettino di questo sito qua cinese anche voglio dire se non vi consiglio nulla io per correttezza vi lascio giù il link al sito però non mi sono trovata affatto bene e niente ragazzi io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze